Carissimi fratelli e sorelle, grande la pace del Re della Pace che è venuto in questo mondo a portare pace all'umanità intera. La sua venuta naturalmente ha destato grande gioia in cielo e sulla terra. Abbiamo sentito a Natale gli angeli cantare, i pastori andare ad adorare il Figlio di Dio che è venuto sulla terra a portare pace e salvezza. Ma la sua venuta ha provocato anche l'ira di Erode e di quanti come lui hanno messo se stessi al posto di Dio. Per cui Gesù nel Vangelo dirà un giorno non sono venuto a portare la pace ma la spada. Perché? Perché la sua venuta crea rottura, crea decisioni, crea risoluzioni di vita nel rompere col peccato, per colrompere con Satana e aderire a lui è della pace e questa pace regna su tutti coloro che si sottomettono con amore a lui. Ed è quando il Signore sta chiedendo oggi alla Chiesa, fratelli, per bocca di tanti suoi profeti e mistici che chiedono una cosa sola, vivere con lui, timorare con lui, parlare con lui, pensare con lui, amare con lui, vivere una vita di comunione con lui, come il Signore dice più volte attraverso dei grandi maestri della fede, che a lui non interessa se tu sei seduto o se sei in piedi, interessa che tu stia con lui. Questa è la cosa che gli interessa. E il re della pace regna con l'amore, regna con la giustizia, regna con la potenza dello Spirito Santo. E oggi l'umanità intera è invitata a gioire e la liturgia ci manifesta questa gioia che c'è all'interno dell'umanità, che attende il Signore. Questa umanità lontana viene rappresentata dai magi che vengono a Betlemma ad adorare il Messia, il profeta, il re della gloria. Questa pace viene annunciata dagli angeli ai pastor la notte di Natale, ma poi viene annunciata a tutta l'umanità. E il salmista perciò invita tutti i popoli della terra ad adorare il Signore. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. E chiediamo allo Spirito Santo, fratelli, di aprirci mente e cuore alla presenza oggi, in mezzo a noi, del Figlio di Dio, che non viene percepito con i sensi, non viene riconosciuto con i ragionamenti, ma con lo Spirito. Perché è il Signore che si manifesta allo Spirito dell'uomo. Vieni, Spirito Santo, Spirito di Dio, promesso dal Padre, donato a noi in Gesù Cristo, per un Gesù Cristo. Vieni, illumina le nostre menti, riscalda i nostri cuori. Spazza via tutte le nubi, spazza via dai nostri occhi e dai nostri cuori, tutte quelle cose che ci impediscono di riconoscere Gesù, Figlio di Dio, Salvatore del mondo, venuto in mezzo a noi a redimerci con la forza del suo amore. Vieni, Spirito Santo, manda il tuo Spirito, Signore, e tutto sarà rinnovato, e tutto sarà ricreato e rinnoverà la faccia della terra. Oggi, fratelli, la solennità dell'Epifania è considerata dalla Chiesa naturalmente come il giorno di Natale, perché l'Epifania del Signore è un aspetto del Natale, in quanto oggi la Chiesa contempla la manifestazione di Gesù Cristo al mondo. E questa manifestazione viene vista in tre momenti particolari. Prima di tutto, nell'episodio dei magi pagani, lontani, non ebrei, quindi non circoncisi, non facenti parte dell'alleanza di Dio con il popolo ebreo, bene, questi pagani attendono la sua venuta e vengono da lontano ad adorarlo. e essi raffigurano tutti i popoli della terra, bisognosi di incontrarsi con il Salvatore, col Dio della verità, col Dio della luce, della santità. E questi pagani, quindi, realizzano le profezie che dicevano che tutti i popoli della terra lo avrebbero adorato e lui avrebbe regnato su tutti loro. E quindi, la giornata di oggi viene vista dalla Chiesa anche come una giornata missionaria, per eccellenza, per questo si prega, per la santa infanzia in modo particolare. E si raccolgono nelle Chiese anche fondi per la santa infanzia, per le opere missionarie, in favore dei bambini in tutte le parti del mondo. Quindi la prima manifestazione di Gesù ai magi, ai pagani. Seconda manifestazione di Gesù l'abbiamo al Giordano, quando lui viene battezzato e lo Spirito Santo visibilmente si manifesta su di lui per manifestare che lui è consacrato Messia e Salvatore, l'inviato del Padre. Questo è il figlio mio, l'eletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E al Giordano Dio manifesta che quell'uomo viene nel nome del Padre, viene nel nome di Dio Altissimo, è il figlio di Dio, è colui che presenta Gesù al popolo Giovanni Battista, dice alle folle, Egli è colui che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, colui che mi ha mandato a battezzare, mi aveva detto, colui sul quale vedrai scendere e dimorare lo Spirito, è colui che battezza in Spirito Santo e fuoco. Ecco la manifestazione di Gesù, una manifestazione visibile, pubblica, è come la sua investitura sociale, oltre che nella potenza, lo Spirito Santo e la sua investitura in mezzo al popolo, perché tutti lo potessero riconoscere, secondo la parola del profeta aveva predetto, su di Lui si poserà lo Spirito del Signore, lo Spirito del Signore è sopra di me. E Gesù viene riconosciuto tale proprio per lo Spirito che è in Lui. E Lui infatti non parla mai ai mali di nessuno, denuncia il peccato, denuncia il male, ma accogli i peccatori, ne va in cerca, mangia con loro e dà la vita per loro. Ecco la grande manifestazione di Gesù al Giordano. E la terza manifestazione, noi l'abbiamo alle nozze di Cana, quando sull'insistenza della Madonna Gesù dona agli sposi e a tutti i convidati il vino nuovo, il vino non più della legge che opprimeva, ma il vino dell'amore, il vino dello Spirito. Lo Spirito di gioia e di pace. Ecco le tre manifestazioni di Gesù, celebrate oggi nella solennità della epifania del Signore, cioè della manifestazione del Signore. E noi tutti, fratelli, siamo invitati ad accogliere questo Salvatore potente. Nella prima lettura di oggi il profeta Isaia scrive «Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce e i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti i costori si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. A loro guarderai e sarai raggianti. Palpiterà, si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelle ti invaderà. Vedete la visione di Isaia che proclama questa universalità di Gesù Cristo e la voce dei profeti, fratelli, non si aspetta. Oggi più che mai si sta realizzando. Perciò il salmista ci invita a pregare, Oddio, affidare il tuo diritto, al figlio del re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo diritto. E San Paolo nella seconda lettura ci parla della manifestazione di un grande mistero. tenuta nascosta per secoli, ma rivelata soltanto ora con la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Qual è questo mistero? Che Dio vuole la salvezza dei pagani. E questo noi dobbiamo accogliere, fratelli, come una verità di frede che deve dimorare dentro di noi. Gesù vuole la salvezza dei peccatori. Gesù è venuto a cercare la pecorella smarrita. È venuto a rivelarsi anche a chi che camminava nelle tenebre. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Ecco la rivelazione. E questa, i pagani, in Cristo Gesù, sono chiamati a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, lo stesso popolo, insieme a quello eretto. e nel Vangelo, fratelli, ci si narra l'episodio che tutti conosciamo dell'adorazione dei magi a Gesù. Oggi, Signore Gesù, attiraci a te. Al posto dei magi, io voglio esserci io, ai tuoi piedi, a riconoscerti, ad adorarti, ad accoglierti, a sottomettermi a te. Tu mi stai chiamando non solo a pregarti, mi stai chiamando a vivere in te, con te e per te, a vivere in comunione con te nello stesso spirito, a formare con te un solo corpo. Ecco, mi Signore, mi prostro ai tuoi piedi come i santi magi. E che cose ti posso dare? Non ho né oro, né mirra. Ti do il mio cuore, ti do la mia vita, mi sottometto a te. Vergine Santissime, tu sei vissuto in simbiosi con Gesù, sei vissuto in piena comunione e d'amore con Lui. Oggi conduci anche me a far altrettanto, a riconoscerlo per il mio Signore, il mio Salvatore. E oggi voglio consecrarte la mia vita, perché nelle tue mani sia uno strumento per portare il Vangelo a tanti, perché tanti cuori abbiano a vedere e ad accogliere il Figlio tuo, Gesù Cristo, come proprio Signore e Salvatore. E ogni credente sia nelle sue mani un messaggero di pace, un profeta, portatore di salvezza, a Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli e dei secoli. Amen. E oggi non possiamo venerare le immagini baciando le immagini di sui bambini come consuetudine nelle chiese, fratelli, nel giorno dell'Epifania, ma adoriamo Gesù col cuore, baciamolo col cuore, sottomettiamoci a Lui con tutto il nostro amore e se volete farlo qualcosa, gradite al Signore, parlate di Lui a qualcuno che ne ha bisogno, manifestate a tutti, anche lontani, che sono amati da Dio. A Gesù la loda e la gloria per tutti i secoli e dei secoli. Amen.